Quando vivo la dimensione del sogno, io sono, non mi pongo nemmeno il problema di non essere all'interno di un sogno. Interagisco sulla base di quello che il sogno mi prospetta. Una mattina mi sto svegliato, ho bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao, una mattina mi sto svegliato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao, partigiano, portami via, perché mi sento di morire, e se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao, e se io muoio da partigiano, e tu mi devi seppellire la simmontagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao, seppellire la simmontagna e sotto l'ombra di un bel fiorno. E le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao, E le genti che passeranno, e mi diranno che bel fiore, e questo è il fiore del partigiano, e questo è il fiore del partigiano, è morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano, è morto per la libertà. E quindi vi faccio vedere una cosa, fami vedere. Su le mani, su Bella 차, oh! Sei bellissimi! Grazie a tutti Grazie a tutti